La regola principale è quella di non prendersi sul serio, troppo sul serio e divertirsi. Tutti noi siamo diversi e al posto di copiare la massa o i grandi personaggi, invece di costruire e far vedere ciò che tu hai già di buono. Ragazzi, sono già le otto e mezza, alla Stance Factory come al villaggio si inizia con il dei svegli muscolari, venite con me che andiamo a sbricciare le canzoni. Un dieci e mezza, ce la caccia il tesoro. Essere animatore, la cosa principale è intrattenere le persone. Per far divertire le persone ti devi divertire più. Un animatore è divertire e appunto far stare l'ospite nel migliore dei modi durante la vacanza. Un animatore è un punto di riferimento del villaggio, è una persona sempre sorridente. Una persona con cui condividere la vacanza, che ti può insegnare moltissimo e ti fa divertire, rendere il tuo soggiorno splendido. E come tutte le cose belle, anche la factory è finita. Si è riso, cantato, scherzato, ballato. Ma vi vogliamo ricordare che questo comunque è uno stage formativo, terminato il quale avrete un lavoro vero e proprio. Invito a tutti quelli che non si sono ancora iscritti di farlo. sul sito www.starswiz.cc troverete tutte le indicazioni e divenire la prossima factory a maggio. Un bacione! Ciao! Grazie a tutti.